Un debutto da tutto esaurito per i legnanesi al teatro auditorio di Cassano Magnago. Il palco Porta Fortuna di Piazza San Giulio ha cambiato spesso veste. Da Cortile Lombardo, da appartamento ultramoderno e lussuoso in centro città per ospitare la nuova rivista della famiglia Colombo dal titolo 70 voglia di ridere c'è. E di voglia ce n'era tanta data la risposta del pubblico. Un pubblico che si è divertito alle battute pungenti dell'energica e brillante Teresa sempre in combutta con il bistrattato Giovanni e che è stato rapito da musiche e consume sfarzosi, colori e coreografie ancora più coinvolgenti del solito per festeggiare alla grande i 70 anni dalla fondazione della compagnia dialettale dei legnanesi e dove l'amabiglia ha sfoderato le sue doti di diva e subred. Tra colpi di scena, sogni coronati e sozia sorpresa anche qualche spunto di riflessione finale sui veri valori della vita. Ancora un successo dunque del trio dialettale più seguito d'Italia grazie anche agli altri personaggi storici e non che gravitano attorno alla famiglia Colombo al corpo di ballo i cosiddetti boys dell'amabiglia e a tutte le persone che lavorano dietro le quinte di uno spettacolo di rivista così complesso e variegato.